Mezzanotte 28, buonasera, ultima edizione del telegiornale, cominciamo subito da Bruxelles, prima giornata del vertice del Consiglio europeo cominciato in salita e in difficoltà per il nostro Paese per la procedura di infrazione, infatti la Commissione ha un'idea molto diversa dei nostri conti pubblici rispetto a quella che è stata presentata dal Premier Conte prima con una lettera e oggi con la sua presentazione per la Commissione. I 5 miliardi portati in dote e in accantonamento non bastano, ne servirebbe addirittura il doppio. Tra l'altro oggi è la giornata nel corso della quale si è cominciato a discutere delle nomine, anche quelle sono in alto mare. Vediamo. Non è bastata la lettera d'intenti che ha preceduto il Premier Conte al vertice di Bruxelles dove il Consiglio europeo affronta il tema nomine ma anche quello della procedura di infrazione per il nostro Paese. Nel documento il Governo spiegava che non sarà necessaria una manovra correttiva perché grazie alle risorse aggiuntive ricavate dai risparmi delle misure in deficit, dagli accantonamenti e dalle entrate fiscali, un tesoretto complessivo da 5 miliardi, nel 2019 il rapporto deficit-pill si attesterà al 2,1%. Intenzione appunto perché la bozza di assestamento si è bloccata nel Consiglio dei Ministri di ieri a causa del pressin leghista con Salvini che insiste sulla flat tax e non vorrebbe prosciugare tutte le risorse disponibili. Ma la strada per evitare un cartellino rosso sembra essere tutta in salita. Dai primi colloqui sarebbero emerse tutte le divergenze sui nostri conti, elemento che non fa ben sperare. Non ha cambiato il quadro neanche il rilancio del Premier. Bisogna cambiare le regole che penalizzano non il Paese ma l'Europa, ha detto. Il nostro candidato alla Presidenza sarà chi è disponibile a cambiare le regole. La strategia è quella di collegare partite che si giocano su due tavoli distinti. Il primo è quello della procedura di infrazione, il secondo quello delle nomine appunto dove ogni voto e ogni veto conta. Linea stoppata dalle parole del commissario agli affari monetari, Moscovi sì. Attualmente la procedura sul debito per l'Italia è giustificata, lavoreremo in modo costruttivo per evitarla, ma, precisa il francese, è una discussione che non può essere fatta con commenti sulle regole, bensì rispettando le regole che sono intelligenti e favoriscono la crescita economica. Non esistono regole intelligenti o ottuse, è la risposta che filtra da Palazzo Chigi. Le regole devono sempre essere interpretate. L'interpretazione, quella sì, può essere più o meno intelligente. A Bruxelles non c'è accordo neanche sul clima. I paesi del gruppo Visegrad si sono opposti all'obiettivo zero emissioni entro il 2050. Adesso vediamo le cose italiane. Il decreto sicurezza, la Corte Costituzionale, ha giudicato inammissibili ricorsi che erano stati presentati da alcune regioni come Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato il provvedimento approvato dal governo ad ottobre in materia di politiche sui migranti. Nel respingere i ricorsi la consulta non è entrata nel merito di legittimità costituzionale delle norme contenute nel provvedimento, ma ha comunque bocciato i superpoteri dei prefetti previsti dal decreto. Non possono sostituirsi ai sindaci, dice la Corte, ritenendo che su questo punto sia stata violata l'autonomia garantita dalla Costituzione ai comuni e alle province. morto in serata il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Cristini, era rimasto gravemente ferito lo scorso 10 giugno per un'esplosione che aveva colpito la sede del comune del paese laziale. Pochi giorni fa era deceduto anche il delegato comunale Vincenzo Eleuteri. E a proposito di esplosioni ben più grave fu quella della grande bombola di GPL trasportata su un treno che deragliò poco prima della stazione di Viareggio incendiando l'intera zona dove c'erano molte case. Morirono 32 persone successe 10 anni fa, il 29 giugno del 2009. Oggi c'è stata l'udienza in Corte d'Appello. Sono state ribadite le condanne. Ci sono stati evidenti e gravissime responsabilità, omissioni, mancarono i controlli, anche quelli di routine. La strage di Viareggio il 29 giugno 2009, 32 morti tra le vittime e anche tre bambini, si poteva evitare. Così la sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Firenze oggi ha condannato ancora l'ex amministratore delegato DFS Mauro Moretti a 7 anni di carcere invece dei 15 anni e mezzo richiesti e l'ex AD di RFI Mario Aelia, 6 anni, la procura aveva chiesto 14 anni e mezzo. Sono in tutta una trentina gli imputati condannati al processo, si tratta di dirigenti e manager delle società estere dove venivano mandati in revisione i carri merci, tra questi due le condanne più alte a 8 anni, quattro invece i dirigenti di RFI assolti. Quella sera di giugno, erano le 23.48, a scatenare un enorme incendio e conseguenti esplosioni fatali fu il GPL fuoriuscito da un carro, cisterna deragliato, nessuno dei responsabili aveva analizzato i pericoli di far passare tra le abitazioni i vagoni carichi di gas. Oggi è un bel giorno, il commento dell'avvocato Tiziano Nicoletti che difende i familiari delle 32 vittime presenti in tribunale, c'era anche il sindaco di Viareggio che dice è stato condannato il sistema ferrovie e a dimostrazione che quello che è successo a Viareggio non è uno spiacevole episodio, è stato fatto un passo avanti verso la giustizia. Il verdetto arriva a nove giorni dal decimo anniversario della strage, i difensori degli imputati condannati hanno annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, l'Italia sta vivendo la peggior crisi demografica dai tempi della prima guerra mondiale. Il rapporto spiega come le nascite negli ultimi 10 anni siano diminuite di 140.000 unità, mentre la popolazione attiva è calata di 5 punti percentuali tra il 92 e il 2018. Continua poi la fuga verso l'estero dei giovani più qualificati, così come continua l'emigrazione dal sud al nord. Fuga solo parzialmente bilanciata dall'apporto della popolazione straniera, l'8,7% sul totale dei residenti, con tutte le incognite sul futuro del nostro sistema pensionistico e di un'economia che secondo l'Istat nel secondo trimestre dell'anno potrebbe tornare in recessione. Negli Stati Uniti, vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump, Mike Pence e i suoi consiglieri su quanto accaduto oggi sulle acque dello stretto di Hormuz, dove l'Iran ha abbattuto un drone americano. Secondo il consigliere della sicurezza Bolton, Trump dovrebbe dare una risposta molto decisa, mentre Trump si starebbe mostrando la colomba del caso e quindi cautela ed evitare di soffiare sul fuoco della crisi. Fino a poche ore fa invece Trump aveva twittato parole incandescenti che facevano intuire la volontà di dare una risposta dura all'accaduto. L'Iran, che ha scritto all'ONU denunciando come spionaggio l'azione americana, sostiene di aver abbattuto il drone da ben 110 milioni di dollari perché è entrato nello spazio aereo iraniano e a prova di ciò ci sarebbero pezzi del velivolo ritrovati in acque nazionali di Teheran. Il calcio oggi è stata la giornata di presentazione di Sarri, nuovo allenatore della Juventus. Dalle esperienze in seconda categoria con Stia e Faellese, inizio anni 90 in provincia di Arezzo, alla squadra più importante d'Italia. Sarri non ha dimenticato quanto sia stata lunga e varia la sua carriera, per questo considera la tappa di oggi come il coronamento di quasi un trentennio di lavoro. Eppure, fra le domande di oggi spiccava quella sul suo abbigliamento. Io preferirei non andare in divisa sociale, chiaramente quando vado a rappresentare la società fuori dal campo è un obbligo e ce l'ho scritto anche sul contratto, sul terreno di gioco mi piacerebbe no, ma sarà argomento di confronto. L'importante è che a quest'età non mi mandino nudo. Nel suo merino c'è naturalmente la Champions League, obiettivo principe di quei tifosi bianconeri che hanno dimostrato almeno oggi freddezza nei suoi confronti. Ma per raggiungerla Sarri sa bene che una delle chiavi sarà il rendimento di Cristiano Ronaldo. Io voglio cominciare a capire quello che pensano di se stessi anche, delle proprie aratteristiche, i singoli giocatori, partendo chiaramente da quelli più importanti nel senso più incidenti, che possono essere più incidenti sulle prestazioni e sui risultati. Schivate con eleganza le polemiche sul suo passato partenopeo. Sia se i tifosi della Curva B mi fischieranno, sia se mi applaudiranno, sarà comunque una manifestazione d'amore. Parole dal sapore antico, ma difficilmente in grado di calmare l'ostilità dei supporters azzurri, molto critici nei confronti del Maurizio Sarri bianconero. Mezzanotte 38, ci fermiamo qui come sempre domattina alle 7, ricomincia l'informazione sulla 7. Arrivederci e buonanotte.